super video dai ma io sono in video qui franz hai un giro spettacolare grazie a te no no grazie a te tu mi hai spifferato i percorsi che abbiamo fatto su tutti i tuoi i percorsi erano forti cazzo che roba ma meglio seguire si Sì, sì. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.